Come è stato detto, si trattava di un post di convocazione, di quella che è stato poi il momento di cordoglio davanti alla stazione, ma credo che in questi momenti l'uso delle parole sia oltremodo da tenere con cauta prudenza e purtroppo non è stato fatto, ma credo che sia stato abbastanza evidente quella che è la posizione dell'amministrazione con la conferenza stampa che è stata fatta. Io purtroppo non ero presente in città, ma eravamo coordinati, eravamo in contatto, non solo tra di noi, ma anche con la questura, con il comandante La Polfer. Purtroppo è una tragedia che colpisce la nostra comunità in maniera improvvisa e che, come è stato detto anche dal procuratore Tito, credo che debba ascriversi a un fatto episodio legato alla situazione di Musa e purtroppo alla situazione in cui si è creata in stazione che ha messo nelle condizioni appunto la gente di reagire in quel modo e credo che in questo vada incanalato. Purtroppo dispiace che invece ci siano altri utilizzi di questa vicenda in maniera, dal nostro punto di vista, anche con poco tatto umano. Ci saranno provvedimenti nei confronti di Bruxelles? Ma no, provvedimenti non ce ne ho ribadito. È stato un'impropria inoltre del post. Come ho detto in questo momento, l'uso delle parole, visto che qualcuno anche con ruoli ministeriali l'ha fatto in maniera, secondo me, impropria, va incanalato in maniera veloce per non dare adito a ulteriori polemiche. Credo che ci sia una vita purtroppo spezzata e una professione, una situazione quella della gente che è molto delicata e vanno rispettate e allo stesso tempo vanno superate cercando di trovare anche gli anticorpi per questi fenomeni. La situazione della stazione è tema del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza periodico e sappiamo che è presidiata, sappiamo quanto sia costante la presenza delle forze dell'Ordine e non solo quelle legate al controllo diretto ma anche al supporto dell'esercito. Credo che su questo sia stato chiaro il procuratore Tito. Insomma, questo episodio accomunato al tema della stazione credo non renda merito neanche alle forze dell'Ordine che in realtà stanno facendo un grande lavoro e che ci danno quella garanzia che ci sentiamo di avere, di avere una città che è presidiata e questa è la cosa che da istituzione a istituzione credo dobbiamo continuare a ribadire. Come dicevo e come abbiamo scritto è costante il coordinamento con la Prefettura, con la Questura con tutte le forze dell'Ordine e questa è quella che deve essere la linea e la nostra condotta e proprio per questo dispiace che due parole messe in un post inoltrato abbiano invece fatto pensare tutt'altro. Quando succede questo si può sempre pensare che si poteva fare di più, sicuramente questo è uno dei tanti particolari perché non è l'unico caso di fragilità che è accompagnato anche da una diagnosi medica che purtroppo o non viene fatta o non viene valutata attentamente e questo è un tema che purtroppo ci mette anche nelle condizioni di ribadire che i tagli alle risorse per la prevenzione e la cura della salute mentale i tagli che sono stati fatti anche sul tema delle forze dell'Ordine o comunque delle risorse ai comuni sicuramente non aiutano e sicuramente mancando risorse probabilmente si perdono per strada alcuni pezzi. grazie 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 grazie